Perché l'Assemblea ha approvato appunto il codice etico del CNEL riguardanti i consiglieri del CNEL e riguardanti coloro che sono designati dal CNEL nei vari organismi pubblici. È una tappa importante perché si inserisce nella cultura appunto dell'etica da parte delle istituzioni. E diciamo che la sostanza di questo codice etico che è la carta dei diritti e doveri dei consiglieri del CNEL e di quanti designati in organismi pubblici è sulla questione della partecipazione. Cioè ad una funzione pubblica corrisponde un dovere che è quello di essere presenti, di partecipare sia ai lavori dell'Assemblea che ai lavori degli organismi ai quali si è assegnati. Questa è una cosa importante perché non è scontata per niente anche perché il CNEL in questa fase come sappiamo ormai da parecchi anni, dal 2015, si è consigliato il CNEL senza nessuna indennità. Quindi lo si fa a titolo puramente gratuito. Però il principio che ad una carica pubblica corrisponda un dovere, un obbligo di partecipare, questa è una cosa importante. Averlo messo per iscritto in forma regolamentare mi pare per il CNEL una tappa importante. Il codice etico è uno strumento importante, innovativo, perché è la carta dei diritti e dei doveri dei consiglieri del CNEL di fronte alla comunità, di fronte all'esterno. Questa cosa è pubblica, cioè ci si impegna ad adempiere a quello che è il ruolo che la Costituzione affida al CNEL in modo pubblico. Quindi mi sembra il fattore della partecipazione, cioè che si viene qui a lavorare, a dare il proprio contributo, quindi a essere presente nelle varie forme dei lavori istruttori, nelle commissioni, nei vari organismi, fino all'Assemblea, è un contributo importante che le parti sociali, che sono quelle rappresentate al CNEL, vogliono dare pubblicamente a tutti, alla comunità esterna. Grazie.